Se uno ti costringerà a fare con lui un miglio, tu con lui fanno i due. Pace e bene a tutti. Quante volte Gesù lungo il mare di Galilea insegnava alle folle? Quante volte Gesù nel Tempio di Gerusalemme o nelle case insegnava alle folle. E oggi il Vangelo vede Gesù su una montagna, circondato dai suoi discepoli e dalle folle, ancora una volta pone, consegna, dona un insegnamento. Gesù ci sta spiegando, ci sta annunciando le beatitudini, ci sta anche insegnando il modo per vivere le beatitudini. E quante volte abbiamo sentito e sentiamo nel Vangeli qualcuno che grida, annuncia o con grande stupore dice ma chi è questo e che insegnamento nuovo è mai questo? Davvero il Signore è venuto a portarci una parola nuova. Possiamo dire così, è venuto a insegnarci la giustizia di Dio, è venuto in qualche modo a consegnarci, a comunicarci il cuore della giustizia, la giustizia che va dritto al cuore al cuore di Dio, cioè l'amore che salva. La giustizia di Dio in fondo nasce dall'amore, nasce dall'amore che rende liberi, dall'amore e dalla libertà. E questo è quello che oggi la parola ci consegna, cioè la possibilità che abbiamo come cristiani di vivere questo insegnamento nuovo, una giustizia nuova, di essere discepoli dell'amore di Gesù. Gesù stesso ha ricevuto nel suo cammino tanti schiaffi, schiaffi non solo durante la passione che hanno colpito il suo volto fisicamente, ma schiaffi anche morali, schiaffi dettati dall'ingiustizia, dalla menzogna, schiaffi dal gruppo dei discepoli, degli amici, schiaffi anche dal gruppo politico, dai capi dei sacerdoti. E Gesù stesso è stato condotto in tribunale, come dice oggi, non solo perché gli è stata chiesta la tunica, ma è stata chiesta tutta la vita a Gesù. E lui stesso è stato, come dire, colpito dai nemici, quei nemici che l'hanno spogliato, l'hanno tolto dalla dignità, gli hanno tolto la vita per l'invidia della sua persona. Ecco, davanti a questi atteggiamenti che anche noi nella vita riscontriamo, Gesù sembra dire uscite dalla logica di amare soltanto chi vi ama e di fare del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene. Questo perché voi siete figli del Padre. Il Padre fa piovere su tutti, sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Ecco che il Signore ci consegna un ordine nuovo di giustizia, una possibilità nuova, la possibilità di amare ed essere liberi. In fondo è questo il cammino del cristiano, l'etica cristiana. La possibilità di dare tutto, non solo quello che viene chiesto, addirittura se qualcuno ti toglie qualcosa ama quella persona, prega per lui. La possibilità di amare anche i nemici, coloro che ci fanno del male. E allora ecco il Vangelo per noi, la buona notizia per noi. In fondo possiamo dare tutto, donare tutto perché possediamo tutto. Questo è l'annuncio di oggi, la parola ci dice tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio e poiché tutto è nostro, tutto ci è stato donato, abbiamo la libertà di vivere questa giustizia, la giustizia del dono, la giustizia dell'amore e del dono di sé. Il cristiano è colui che vive questa spogliazione, questo cammino di spogliazione o possiamo dirlo in modo positivo, questo cammino di donazione fino a dare tutto, a dare tutto se stessi. Allora ecco fratelli e sorelle, se qualcuno ti costringe a fare con lui un miglio, tu hai la libertà e l'amore per farne con lui due. Pace e bene a tutti.